Villa Somalia, il Gernetto, l'Esmo Villa Mellerio o Villa Somalia, detta il Gernetto, fu eretta nella seconda metà del Settecento da Simone Cantoni e ampliata prima da Giambattista Mellerio, vicepresidente del governo del Lombardo Veneto, e poi dall'architetto Somalia. Si tratta di un imponente complesso tardo neoclassico che si compone di numerosi corpi di fabbrica che danno vita a ampi cortili sui quali spicca la torre Belvedere, risalente al XIV secolo. Delle ricche collezioni d'arte rimane solo Ettore e Andromaca, un gruppo in marmo di Giuseppe de Fabris. La villa conserva un importante giardino con terrazze di gradanti, che costituisce uno dei migliori esempi di giardino all'italiana in Brianza. La straordinaria posizione della Villa del Gernetto le consente di dominare la sottostante vallata dell'Ambro e gran parte della pianura a sud.